Ciao e ben ritrovati sul canale. Nel video di oggi metteremo alla prova chat GPT nel contesto delle traduzioni. Traduzioni banalmente dall'italiano all'inglese, dall'inglese all'italiano oppure utilizzando anche altre lingue, francese, spagnolo. Nello specifico noi metteremo alla prova questo strumento in vari ambiti delle traduzioni. Le traduzioni si possono fare in vari modi, si possono tradurre testi di tipologie differenti. Ecco noi cercheremo di mettere alla prova lo strumento con esercizi di questo genere. Il video che tra pochissimo vedrete è un estratto del mio videocorso dedicato esclusivamente a chat GPT dove affronto molteplici ambiti in cui lo strumento chat GPT ci può essere di grande aiuto. ad esempio il copywriting, il marketing, la salute, la psicologia. Quindi se siete interessati al videocorso completo vi lascio il link in descrizione che vi riporta la pagina di presentazione dove potete semplicemente dare un occhio e capire meglio di cosa si tratta. Detto questo vi lascio al video di oggi. Buona visione! Mettiamo adesso alla prova chat GPT nella traduzione di testi. Questa è un'altra abilità molto importante per un copywriter ma in generale per chi si occupa di traduzioni. E vediamo le potenzialità che ci offre questo strumento rispetto anche a programmi già esistenti tra cui il famoso Google Translate. Google Translate già ci offre delle capacità interessanti di traduzione. Vediamo però come chat GPT migliori comunque anche tale strumento. Quello che ho preso è un testo qualsiasi in lingua inglese My Wonderful Family e qui abbiamo appunto un testo che ho copiato e ho dato in pasto a chat GPT chiedendogli di tradurlo in italiano. E ovviamente lui ce lo traduce. La mia meravigliosa famiglia vivo in una casa vicino alle montagne ho due fratelli e una sorella e sono nato o nata per ultimo. Mio padre insegna matematica e mia madre un'infermiera in un grande ospedale. Quindi direi che la traduzione mi sembra corretta l'ho più o meno verificata. My sister is a nervous girl but she is very kind. Quindi mia sorella ad esempio è una ragazza un po' nervosa ma molto gentile. Mia sorella è una ragazza nervosa ma è molto gentile. Mia nonna vive anche con noi. Allora adesso già qui prossimo step vediamo la potenzialità dello strumento. Gli ho chiesto riscrivi migliorando la leggibilità mantenendo ovviamente inalterato il senso. E questa è già un'operazione che Google Translate e gli strumenti tradizionali non possono fare. Quindi siccome la traduzione letterale a volte non è molto bella esteticamente da leggere allora gli ho chiesto di riscrivere migliorando appunto la leggibilità. Ed ecco una versione migliorata. E vedete vive in una casa vicino alle montagne con due fratelli una sorella ed una nonna che è venuta dall'Italia quando avevo due anni. Perfetta. Questa è una frase scritta perfetta. Quella di prima è vive in una casa vicino alle montagne. Punto. Ho due fratelli e una sorella e sono nato o nata per ultimo o ultima. Perché ovviamente nell'inglese non si riesce da questa frase a percepire se era maschio o femmina. E vedete vive in una casa vicino alle montagne due fratelli e una sorella e sono nata per ultimo o ultima. Tra l'altro mia nonna vedete dov'è vive anche con noi. Guardate quanto è sotto rispetto alla traduzione originale. Vivo in una casa vicino alle montagne due fratelli e una sorella e sono nato o nata per ultima. E poi c'è sotto mia nonna vive anche con noi. Perché la traduzione e il testo originale è così. Lui riformula quindi comprende il senso di tutto questo testo e nella traduzione migliorata ci dice vivo in una casa vicino alle montagne con due fratelli e una sorella ed una nonna che è venuta dall'Italia quando aveva due anni. Cioè vedete come ha colto perfettamente il senso e ha rielaborato il tutto. E questa è una capacità davvero notevole perché noi quando facciamo una traduzione in ogni caso dobbiamo dare fornire al cliente o a chi ce l'ha commissionata qualcosa di leggibile e qui ovviamente c'è qualche problema per quanto sia corretta però questa è una versione senza dubbio migliore. Ovviamente bisogna assicurarci che il senso rimanga inalterato meglio specificarlo perché non deve comunque cambiare il senso il senso deve rimanere quello del testo originale ovviamente. Bene detto questo andiamo avanti ho preso un altro testo questo qui Attracts Bananas perché? Perché questo testo è molto più complesso è un livello C1 C1 è un livello di classificazione della lingua inglese di difficoltà e il C1 è un livello abbastanza complesso e allora ovviamente ho preso questo piccolo vedete anche si nota che la scrittura è già più complessa ho preso una piccola parte e gli ho chiesto a ChatGPT di tradurla traduci in italiano e questa volta gli ho chiesto già di migliorare la leggibilità e allora ho copiato il testo e lui inizia negli anni 50 i produttori di banane commerciali dell'America centrale si trovarono di fronte alla morte del loro prodotto più redditizio la banana Grossmichel conosciuta come Big Mike e ora sta accadendo di nuovo al successore di Big Mike ovvero questa Cavendish quindi si parla di questa tipologia di banane con il suo frutto facilmente trasportabile dalla buccia spessa eccetera a questo punto gli ho chiesto riscrivi migliorando ancora la leggibilità così da avere proprio una versione ancora più fruibile negli anni 50 i produttori di banane dell'America centrale dovette raffrontare la morte del loro prodotto più redditizio la banana Grossmichel conosciuta anche come Big Mike vedete conosciuta anche come Big Mike invece in quella di prima è leggermente diversa si trovarono di fronte la morte del loro prodotto di redditizio e invece vedete come è cambiata dovette raffrontare la morte molto è meglio dovette raffrontare piuttosto che si trovarono di fronte cioè è comunque più più corretto la pianta di banana Grossmichel dominava le piantagioni dell'America centrale grazie al suo frutto facilmente trasportabile e invece vedete qui com'è diverso con il suo frutto facilmente trasportabile dalla buccia spessa dal sapore dolce la pianta di banana dominava invece qui è cambiata completamente la pianta di banana dominava le piantagioni il frutto trasportabile dalla buccia spessa e dal sapore dolce quindi è già molto meglio e ribatto su questo punto perché la capacità di rielaborazione di chat GPT è uno dei suoi punti di forza adesso cambiamo lingua ho detto ok mi hai tradotto questo testo in italiano adesso traduci questa versione in spagnolo visto che comunque lo strumento si muove bene anche tra lingue differenti ed ecco la versione spagnola a chi è stra traducion traducion nel spagnolo io non lo conosco lo spagnolo però mi sembra che ci abbia fornito una traduzione e mi aspetto che sia corretta adesso una cosa molto diciamo una traduzione complessa molto più complessa ho preso il primo capitolo del Silmarillion che è un testo di Tolkien Tolkien è lo scrittore del Signore degli Anelli dell'Hobbit e il Silmarillion è un po' è quel libro che è la genesi secondo Tolkien quindi la creazione del mondo secondo Tolkien ciò che poi farà da sfondo al Signore degli Anelli all'Hobbit e a tutti i successivi volumi ed è un inglese ovviamente complesso il Silmarillion un inglese che utilizza termini antichi quindi è una traduzione davvero molto complessa e questo è il primo capitolo io ne ho preso un pezzo vedete there was Eru the one when art is called Ilúvatar and he made first the Ainur vedete quanto è difficile questo inglese bene l'ho dato in pasto allo strumento traduci questo testo di Tolkien in italiano benissimo e guardate come se la cava anche bene in questo senso vi era Eru l'unico che in Arde ha chiamato Ilúvatar e fece dapprima gli Ainur le sante essenze che erano il frutto del suo pensiero e furono con lui prima che altro fosse fatto e parlò loro proponendo dei loro temi di musica e si cantarono davanti a lui e fu contento vedete com'è complicato questo testo anche tradotto a questo punto ho voluto tra virgolette usare ancora di più chiedendogli di riscrivere modificando il testo affinché sia più bello esteticamente eccoti una versione più armoniosa e piacevole della lettura all'inizio c'era Eru e infatti lui prima vedete vi era Eru l'unico e lui cambia con all'inizio c'era Eru l'unico che in Arda è chiamato Ilúvatar e prima di qualsiasi altra cosa creò gli Ainur invece prima era e fece dapprima gli Ainur e invece lo va a modificare con il prima di qualsiasi altra cosa creò gli Ainur le sante essenze figlie dei suoi pensieri che furono con lui fin dall'inizio gli parlò proponendo loro temi di musica eccetera eccetera benissimo ultimo test la traduzione in inglese perché finora abbiamo visto dall'italiano all'inglese scusate dall'inglese all'italiano adesso dall'italiano all'inglese ho preso quest'altro piccolo testo i colori del piccolo Mattia e lo facciamo tradurre Mattia è un bimbo di 5 anni che passa tutte le sue giornate a disegnare Mattia is a 5 year old boy who spend all this day drawing in reality Mattia doesn't put in more effort than necessary eccetera anche qui modifica finché sia più leggibile sempre in inglese the colors of Mattia meet Mattia a 5 year old boy who spend all his time drawing though he doesn't put much effort into sketch line eccetera quindi questa è una versione riscritta dove è migliorata la leggibilità ecco che abbiamo quindi esaminato in questo video le potenzialità dello strumento nella traduzione in lingue differenti e con livelli di complessità differenti commenti qui attualmente scrive in attualità